Manca sempre meno al derby di Milano tra Inter e Milan, una partita affascinante, una partita in cui il nostro Milan dovrà fare la prestazione e dovrà fare il risultato, quindi servirà davvero tanta qualità, tanta lucidità e tanto cuore. Stefano Pioni che sta facendo tanta pretattica, ci si immagina, ormai se ne dice da diversi giorni, che ci saranno novità, sorprese, sorprese nella formazione e questo potrebbe essere davvero il punto di forza, perché per Simone Inzaghi, lo dicevo già ieri nel video, sarà difficile preparare la partita perché non sa nessuno, perché Stefano Pioni ha voluto degli elementi blindati, nessuno sa come Milano potrà scendere in campo, quali saranno le accortezze tattiche, tecniche che Stefano Pioni sta in qualche modo trasferendo, che sta in qualche modo spiegando ai giocatori. Negli ultime ore si parla di un 3-5-2, così assemblato con Tataruzano in porta, con Kier, Kalulut e Gabbia, tre difensori, quindi difesa a tre, con un centrocampo folto, un centrocampo pieno di giocatori con Calabria a largo a destra, con Teo Hernandez a largo a sinistra, con Krunic e Tonali sicuri del posto, probabilmente Messias in quella posizione inedita, che potrebbe essere anche un 3-4-1-2, quindi con Messias trequartista staremo a vedere, e con le due punte che potrebbero essere Giroud e Origi. Quindi queste le ultime, ma è difficile in questo momento interpretare le mosse, le idee di Stefano Pioni, che sta tenendo sulle spine tutta la rosa, tutti i giocatori disponibili, perché nessuno in questo momento è certo del posto titolare, e quindi potrebbero esserci sorprese delle ultime ore, degli ultimi minuti. Stefano Pioni quindi che sta facendo tanta pretattica, non solo nei confronti dell'avversario, ma nei confronti dei giocatori stessi, perché il Milan, il mister, ha bisogno, ha un assoluto bisogno di una svolta, una svolta tecnica, una svolta mentale, una svolta davvero di lucidità, perché il Milan nelle ultime partite è apparso poco lucido, perché è apparso veramente, in qualche modo, confuso. E ovviamente dobbiamo ritrovare questo spirito Milan, questo spirito Milan che ci ha portato a vincere, ma soprattutto a giocare bene, a giocare uniti, a giocare, per portare a casa un risultato importante. E quindi questa formazione, andiamo a analizzare un pochino questa formazione, questo 3-5-2, una difesa a tre, una difesa che costruisce a tre, ma che difende a tre anche perché l'Inter gioca a due, e quindi il Milan vuole coprirsi, vuole avere un giocatore in più lì nella fase difensiva, vuole controbattere alla forza dei centrocampisti dell'Inter, con un centrocampo più folto, un centrocampo più energico, quindi ha inserito Krunic per la causa dello squalificato Ben Nasserre, e quindi una linea di centrocampo più robusta, pronta a difendere, in maniera organica, ma pronta anche a sostenere l'attacco con due sterni veloci, come Calabria e appunto Teo Hernandez, con la possibilità di inserire Salem Eker nel secondo tempo al posto di Calabria, perché il ruolo della fascia destra è un ruolo davvero dispendioso. E lì davanti, mi voglio soffermare lì davanti, potrebbe esserci l'esclusione di Rafa Leao, e potrebbe esserci dal primo minuto Origi al fianco di Giroud. Due prime punte, due prime punte che nel loro storico, nella loro carriera, hanno fatto sempre gol pesanti. Peccato aver perso Origi per buona parte della prima parte di stagione, perché è un giocatore che al Liverpool era chiuso da grandissimi attaccanti, ma che Klopp ha sempre stimato, che quando è sceso in campo ha sempre fatto molto bene. Basti pensare la qualità dei due gol messi a referto con il Milan, un gol col Monza davvero potenza, classe, precisione, e la stessa cosa possiamo dire contro il Sassuolo, potenza, classe e precisione. Quindi Origi è un attaccante tutt'altro che scarso, tutt'altro che debole, un giocatore che il Milan deve assolutamente ritrovare, perché può essere un'arma davvero importante. Come può essere un'arma importante? A parte di in corso Rafa Leao, quando ormai le squadre sono un pochino più stanche, sono un pochino più lunghe, un giocatore con la potenza, con la velocità di Leao, può essere un fattore in più, un fattore determinante per il Milan. L'ho sempre pensato, ho sempre detto che Leao è un giocatore fortissimo, un giocatore formidabile ma che deve crescere tantissimo a livello mentale, a livello psicologico, quindi devono queste eventuali esclusioni ancora di più caricarlo, motivarlo, far capire al mister che si è sbagliato quando entra. E un giocatore, come diceva Nesta, grandissimo nostro campione, nostra leggenda, deve imparare a giocare nello spazio, non sempre chiedere la palla sui piedi, ma deve andare nello spazio, perché un giocatore dalla sua forza, della sua velocità, del suo sprint, se va nello spazio, è un giocatore davvero, davvero importante, davvero pericoloso. Fatemi sapere, amici, di Rubrica Rossonera, cosa ne pensate di queste ultime novità, ma in qualche modo voglio metterle mani avanti. Attenzione a possibili sorprese. Stefano Pioli sta studiando, sta cercando di capire come far male all'Inter di Simone Inzachi.